100 minuti, 100 minuti di pura sofferenza, perché ragazzi io sinceramente non vorrei mai trovarmi nei panni di questi giocatori a giocare i play-out di serie B, quindi che vai in C, che in C vuol dire un po' la morte alla fine di una società, di una tifoseria, poi ad agosto e tra l'altro anche col caldo di agosto, ragazzi Pescara-Perugia 2-1 è solo l'andata, quindi può succedere ancora di tutto, tra l'altro il Perugia che mi pare fosse arrivato più avanti in classifiche del Pescara, quindi a parità di risultato dovrebbe passare il Perugia, ma correggetemi se sbaglio, ma al di là di quello la partita di oggi secondo me ha dimostrato che il Pescara sta meglio, ha qualcosa in più forse come qualità, secondo me sì, è meritata, perché comunque passa in vantaggio il Perugia con gol di QN, scusate la pronuncia, e poi la ribalta con la qualità, con Galano, colpo di testa, che non è sicuramente uno dei suoi colpi migliori, non ha il suo repertorio, però bell'inserimento, si fa trovare pronto, però anche non marcato, libero, quindi non deve neanche saltare la piazza lì, e poi rigore di Riccardo Maniero, che è anche un giocatore, diciamo che in serie B fa la sua figura, però visto il tridente del Pescara, comunque Pucciarelli, Maniero, Galano, beh, non è una squadra che merita questa posizione, neanche il Perugia, perché Pescara e Perugia erano partite con l'obiettivo playoff, credo, entrambe, e hanno avuto una stagione travagliata, tutte e due diciamo che forse non si aspettavano di essere qua a giocarsi la Serie C, a rischiare di retrocedere, però purtroppo è accaduto, e il Perugia addirittura ha cambiato due volte l'allenatore, mi pare Oddo, Cosmi, Oddo, e adesso c'era voce che lo dovevano cambiare di nuovo, ma ormai finisci così, cioè sì, corrente, Oddo, che secondo me è anche un buon allenatore, poi per carità ha trovato le sue difficoltà, però ha già allenato in Serie A l'Udinese abbastanza bene, e ormai finisci così, tira la barca finché non affonda, o magari non affonda, è arrivata a Riva e rimanete in Serie B, cosa volete che vi dica? che vi dica, è lo stesso il Pescara, le grottaglie che fino a un certo punto aveva fatto discretamente, poi è crollato post-lockdown, infatti è arrivato sottile, e io dico, il mio pronostico è che il Pescara ce la fa, anche se ripeto, tutto può succedere, a parità di risultato il Perugia è avanti, mi pare, quindi dovrebbe passare il Perugia, però il Pescara secondo me oggi l'ho vista meglio, assolutamente, il Perugia, sono partite purtroppo che dal punto di vista psicologico ti ammazzano, cioè devi avere grande personalità, devi essere freddo, devi essere calmo, e anche l'allenatore te lo deve trasmettere, il problema è che Oddo magari in questo momento sicuramente non è tranquillo, quindi non ti può trasmettere questi valori. Va bene, ragazzi, il mio pensiero è questo, mi raccomando, like, commentate, vi lascio il video dell'Inter che ho pubblicato prima di questo, bella.